È Mark Wahlberg, classe 1971, originario di Boston, l'attore più pagato del 2017. A stabilirlo è la prestigiosa rivista Forbes, che da anni stila la classifica dei paperoni di Hollywood. Wahlberg, alle spalle un passato difficile e anche grandi successi nel campo della musica, ha guadagnato ben 68 milioni di dollari, grazie a film come Transformers, l'ultimo cavaliere. Di fatto ha scalzato Dwayne Johnson, il mitico The Rock, che si è affermato a quota 65 milioni, con i ruoli in Fast & Furious 8 e Baywatch. Sempre grazie a Fast & Furious sale sul podio anche Vin Diesel, terzo, con 54,4 milioni, un balzo in avanti non indifferente per lui, che nel 2016 ne aveva portati a casa appena, si fa per dire, 35. Quarto posto Adam Sandler, con 50 milioni. Quinto posto Jackie Chan, 49, seguito poi da Robert Downey Jr., 48, Tom Cruise, 43 e Shah Rukh Khan, The King of Bollywood, con 38 milioni di dollari. Chiudono al nono e decimo posto Salman Khan, con 37 milioni di dollari e Akshay Kumar, con 35,5 milioni. La classifica di Forbes è divisa per sesso. Tra le donne a trionfare è Emma Stone, che supera la collega Jennifer Lawrence, che aveva primeggiato nel 2016. Le differenze di retribuzione fra uomini e donne a Hollywood sono molto grandi. A Emma Stone sono bastati 26 milioni di dollari per piazzarsi al primo posto.